In un anno si stima una perdita pari a 600 mila euro e con la popolazione di caprioli in aumento di almeno il 25 per cento le cose non possono che peggiorare. È un allarme che parte dai territori di Valdarno, Valdichiana, Valtiberina e Casentino di cui Conf Agricoltura si fa portavoce e che parla appunto dei danni alle coltivazioni, ai boschi, ai vigneti da parte degli ungulati dopo che il Tar ha sospeso il piano di controllo dei caprioli accogliendo il ricorso presentato dall'Associazione Urca. La preoccupazione è alta, afferma Simone Ciuffi, responsabile settore caccia di Conf Agricoltura Toscana, soprattutto per le conseguenze che l'aumento della popolazione avrà sui boschi e sulle altre colture di pregio, in particolare la vite. La sentenza del Tar è attesa per la prossima settimana, ci auguriamo, afferma ancora Ciuffi, che tutti gli sforzi fatti fino ad ora anche dalla regione toscana non siano vanificati e si proceda a risolvere il problema riportando in equilibrio l'ecosistema che allo stato attuale risulta fortemente compromesso.